Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di PsekoCiccio Questa oggi ci troviamo con il secondo episodio della beta di Battlefield Hardline La beta stavo per dire una cazzata ma va bene grandissimo Allora, quindi giochiamo col medico, col meccanico La prossima volta vi farò diciamo vedere le varie classi più da vicino Però nel terzo episodio questo è ancora un video per far vedere un po' come va la beta Insomma il gameplay stesso Allora noi ci troviamo, siamo i poliziotti e ci troviamo in questo furgone Furgone, furgone, che cazzo ho detto? In questo furgone blindato Aspettando che arriviamo Quindi io ho comprato le armi ragazzi, è un'arma che le armi si comprano come mi sembra che l'ho detto E abbiamo praticamente l'Uzi, ho comprato l'Uzi che è l'arma di difesa personale Devo dire che non è male, mi stavo stuprando il palo grande Devo dire che l'Uzi non è poi così male, anzi devo dire che Come arma è carina ecco, è carina, si Attenzione Non è morto, cioè non è morto per mano mia dopo che l'ho sfondato di proiettili ragazzi Comunque preferisco usare la mia bellissima UMP che a me piace tantissimo Il cecchino lo vedremo anche nell'ultimo episodio ovviamente Allora, customizza Devo fare una kill con sta caspita di T62 Che sarebbe l'electroshock ma va bene Alla UMP non mi piace La UMP non mi piace La P90 non la voglio usare Stella di servizio già della UMP4, grandissima Andiamo, oddio qua c'è un punto di respawn proprio per me Oddio guardate che camperone Kill assist, madonna che palle Odio ste kill assist O me le dai o non me le dai No però mi da punti dai, anche soldi per coprire le armi dopo Intanto lancio una granata lì Poi me ne vado qua Non c'è nessuno Voglio fare una kill con l'electroshock, maledizione Attenzione, penso che sta arrivando una macchina nemica Attenzione E boom, ho fatto una kill con l'RPG Il mio amato RPG non mi abbandona mai Ricarichiamo velocemente Maledizione se ci fregano i soldi Non ci posso fare niente Devo ricaricare Noto che mi lagga un pochettino quest'oggi Ma va bene, fa niente Uuuuh Oddio mi ha sputato un RPG in bocca Vomita RPG adesso Proprio in faccia praticamente Dai 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 Cominciamo, dai veloce Allora, respawniamoci di nuovo Cristo veloce Madonna quanto ci sta per respawnare Dovrebbero fare un po' la call of duty Subito, boom, respawn Attenzione, andiamo avanti Vediamo un po' chi c'è qua Qui non ci vediamo Eccola lì È arrivata una macchina Madonna come mi va a scatti, porca troia Non so se è la mia connessione che dà problemi O magari è il server Perché di solito la mia connessione non dà mai E poi mai problemi Ma c'è sempre la prima volta Come si sa Oddio da dove sono? Da dove sparano? Qui sopra ragazzi Attenzione Boom ragazzi Il veicolo distrutto è ammazzato Grande però ha ucciso lui con l'M-16A3 Peccato, peccato Grande, mi hanno rianimato Uh, sparano, sparano, sparano Noi lanciamo una granata No, non la lanciamo una granata Perché non c'è più nessuno Quindi stiamo difendendo bene gli obiettivi ragazzi Non, praticamente non Non riescono ad aprire Oddio Oddio, devo caricare ancora l'RPG Lì c'è qualcuno raga Attenti Gra, ma kill assist 75 Un altro paio di coppi con la mia bellissima UMP E sarebbe morto Dio quanto è difficile caricare sto RPG Cioè quanto è lento caricare sto RPG Ok Hanno aperto praticamente la La porticina Bastardini Madonna no Mi ha preso in pieno ragazzi Mi ha preso in pieno Che stronzo L'RPG è già finito più in là Ho cominciato a fare zig zag E non lo sono riuscito a prendere Peccato Quanto stiamo Grande che mi stavano rianimando Ma poi mi è passato di lui Di lui Eh che palle Di nuovo lui di sopra 2-3 Ho fatto solo 2 kill Peccato L'area dovevo rimediare ragazzi Cioè ho fatto solo 2 kill Non posso fare solo 2 kill io Madonna Ecco infatti ho rimediato E la terza kill Grande Gli dico un thank you Lanciamo una granata lì Anche se so che non farà effetto Ma chi lo sa Infatti non ha fatto effetto Grande Di qui allora Allora arrivano persone Peccato che non ci sono le mine antiterra Ecco Già mi stanno sparando Ma via dalle palle Vediamo se lo abbazzano Mi sarebbe piaciuto Ammazzarlo Cristo Peccato Ricarichiamo velocemente L'RPG Qua noto che sta arrivando Un casino di gente Ora gli sputo RPG In bocca a tutti Grande il primo è lì E non è morto Però ora si Granate ovviamente Non ne ho più Perché l'ho sciupata poco fa A cazzo per giunta Non c'è più nessuno Qui no Ne approfittiamo per ricaricare Il mio RPG Oddio ci stanno fregando I soldi da lì Attenzione No 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 maledizione Anche lui con l'OMP Mi sono impappinato 35% di salute Ma va bene Peccato 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 Veramente Tanto lui ha tirato una granata Aspettando che non ammazza qualcuno Dai ragazzi Oddio Stiamo qui sotto Praticamente dai Di nuovo sul furgone Blindato Non possiamo sparare da Da Scusate La digestione Da questa Finesta Diciamo Ecco Dal davanti non si può sparare Ecco sono un passeggero Non posso sparare Vai vai dai Ma come guidi Cavolo Chi ti ha insegnato a guidare Tanto lancio una granata Magari c'è qualcuno lì Che sta No però sarebbe stata bella Ragazzi sarebbe stata Perfetta la granata Dato lì abbiamo disattivato la carica A quanto ho visto Quindi ciò Ci ritorna utile Per Andare Ad uccidere gli altri Attenzione Magari C'è ancora il camperone Qui non c'è Madonna ragazzi L'ho ucciso Mi sono Un po' imbappinato Perché volendo Lo potevo anche Ecco qui ragazzi Si Arrestato indiretta Mentre la gru Mentre la gru Cadeva Grandissima uccisione Bella 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 Oddio Qui tremano tutte cose Maledizione Ok Dai si ferma Intanto qui ha scassato Mezzo palato Era questa la gru Si Quindi se c'era un cecchino Lì sopra Mi dispiace per il cecchino Ma Per lui è la fine Allora qui Oddio C'è un Un'auto Diretta Su di noi Ragazzi Mamma mia Peccato L'ho schivata E anche di tanto Quindi è inutile dire Per poco Perché l'ho schivata Di tanto Attenzione a quale auto Si stanno fermando Mi sa Qui sotto Per far si che Insomma Per Disattivare Insomma Per attivare le cariche Bravo Boom ragazzi Si Maledizione Ancora una kill Con l'RPG Grandissima Grandissima Bella veramente Mi sta piacendo Intanto la partita Sta finendo Ragazzi Lì c'era una motocicletta Granate Non ne abbiamo più Va bene Buttiamoci Dai Già che ci siamo Buttiamoci qui Ecco lì è passato qualcuno Attenzione Avevo No No Non l'ho ucciso 55% di salute Peccato Quanto stiamo praticamente 7-4 Non male la partita Veramente non male Ho fatto anche delle Belle uccisioni Ho arrestato anche una Indiretta Quindi Buono Che dire ragazzi La partita Penso che Stia finendo Però io Concludo il Video qua Peccato Magari continuano Altro po' di minuti Però sta durando Già un po' Ah ecco Non riuscivo a trovare Il punto Dove ero prima Però ero già qua Dai Ah mi sto bruciando Ragazzi mi sto bruciando Nel fuoco Mi sono messi lì La salute in un accento Magari c'era un medikit Mi sono curato Che dire ragazzi La partita finisce Adesso aspettiamo che la Partita finisce Già sento la musichetta Che fa Una cosa simile Oddio che sono scemo Allora buttiamoci di qua Non dalle scale Buttati di Ma Cioè ragazzi Come impappinarsi Su Come impappinarsi Su Battlefield Hardline Qui mi dice Che c'è qualcuno Ok oddio Ma da dov'è Che spara Penso sia Lì sopra Manco morto Ci arriva la granata Appunto Se sono morto Come fa ad arrivarci la granata Ma va bene Logica stessa ragazzi È la logica stessa Allora noi stiamo diventando bene L'obiettivo grande Non si può saltare dal muretto Peccato Magari il muretto è troppo alto Oddio Qua c'è un Un amico morto Un Lancio la granata Lì a caso Ecco L'ho lanciata tipo Con un mascatto Ma va bene Non riesco a capire Saranno qui sopra Praticamente ragazzi Ah non posso stare qui Peccato 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 Ah mi ammazzo Non mi ammazzate Non mi ammazzate proprio ora Che il video finisce Vabbè ragazzi La partita non finisce più eh Sono le ultime 6 uccisioni Ma noi per fare 6 uccisioni Ci stiamo mettendo in eternità Attenzioni Attenzione Attenzione Grande Le ultime Non sono Non erano le ultime 6 uccisioni Le ultime 4 ecco Adesso sono le ultime 4 Velocemente Facciamo queste 4 uccisioni Sperando che le facciamo E ce ne andiamo tutti a casa Come si suol dire Eccoli dove sono Sono tutti lì sopra Raga Ecco qui La partita è finita Grandissimo Bella giocata comunque Che dire 8-5 Non male diciamo Lo scorre per essere Su Battlefield Hardline E c'è chi ha fatto meglio C'è chi ha fatto peggio Con questo è veramente tutto Spero che il video vi sia piaciuto Se è così Lasciate un mi piace Commentate se vi va E iscrivetevi al mio canale E condividete i video Per Per far si Che il mio video Si Che il mio canale Cresca Noi ci vediamo Al prossimo episodio Con una Descrizione Di una Delle Classi Con questo è tutto Ci vediamo Al prossimo Video Ciao a tutti raga